Caravi lutto nel mondo del calcio giocato è morto infatti Joseph Perfection, il giovanissimo immigrato che militò nella Roma primavera del gran Alberto De Rossi, si è spento purtroppo nella notte. Stroncata con un infarto a soli 21 anni di età, il giovane talento era camerunese, si è spento nella notte a Roma. Da come si legge nel web, per colpa di un arresto cardiaco, era arrivato in Italia con la promessa di una carriera da calciatore, Joseph fu poi abbandonato da come si legge nel web alla stazione dei termini. Comincia a giocare nella squadra di liberi Nantes, formata a giochi di rifugiati, l'identesilo politico in una parte amichevoli contro i giallorossi, furono notati da subito le sue grandissime doti, le sue qualità. La Roma lo portò a Trigoria nel 2015 per terserarlo solo al complimento di 15 o 18 anni, non è chiaro bene. Vi ringrazio per l'ascolto, questo video non vuole riedere la privacy di Joseph Perfection, non vuole solo informare eventuali persone nel rispetto della sua persona e della sua privacy. Grazie Joseph, riposo in pace, Amen.